Comunque sia fatta la tua casa, se hai una Scavolini c'è più gusto a stare in cucina. Senza il canone Telecom, sono contento, arrivo a volerci. Fai felice il tuo portafoglio, solo con Tele2 non paghi il canone Telecom e puoi fare da casa urbane e interurbane illimitate a meno di 19 euro al mese. Chiama il 1922. Tele2, perché pagare di più? Vicinette disincrostante è pronto ad andare sott'acqua. La sua nuova formula disincrosta fino in fondo, fin sotto l'acqua, là dove altri si sono arrese. E in più disinfetta, perché è un presidio medico chirurgico. Vicinette disincrostante disinfettante, pulito a fondo, fino in fondo. Questa giungla mi distrugge, è sempre il solito tram tram. Ma amore, oggi c'è una sorpresa, ci sono le nuove gocciole. Ancora più gocce di cioccolato. Ancora più buone. Nuove gocciole pavesi, partire con più gusto. Se hai tutti i sintomi dell'influenza, è anche il naso chiuso. Esci con due compresse del nuovo Vicks Blue Action. La doppia azione per sentirti subito meglio. Vicks Blue Action, doppia azione. Contro sintomi influenzali e congestione nasale. È un medicinale, legge le foglie illustrativo, lo somministravi sotto i 12 anni. Smacchie? Non farne un dramma. Oggi c'è il nuovo Omino Bianco Oxy, l'unico smacchiatore multiuso ad azione istantanea su divani e tappeti. E pretrattante sui capi. Omino Bianco Oxy, tranquilli, smacchia sicuro. Se cercate una pizza veramente unica, provate pizza al ristorante. Così sottile, così croccante. Così ricca e saporita. Un nuovo modo di vivere la pizza. Ristorante. Una pizza come nessuna. Scopri Sensor 3, l'incredibile usegetta di Gillette. Tre lame montate su molle che si adattano al tuo viso. Il migliore usegetta maschile di Gillette. Una grande marca sa accettare la sfida dei sogni. Progetta risposte concrete, ma soprattutto sa renderle accessibili. Ernesto Meda, la democrazia in cucina. Se qualcuno è a conoscenza di un motivo per cui questo matrimonio non dovrebbe essere celebrato, parli ora o taccia per sempre. Nuova Ford Fiesta. Nuove emozioni al prezzo di sempre. Con doppio airbag, ABS e climatizzatore a 10.950 euro. Il successo continua. Prezzi bloccati fino al 28 febbraio. Festeggiali anche sabato e domenica. Qualcuno che stavate aspettando è finalmente tornato. È commissario Mondarbano, eh? Sì. Marie! Ha nuove storie da raccontarci? Sì. 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 Allora la aspettiamo prossimamente. Come no? Su Rai 1. Maria. Arrivederci. Lunedì comincia il 56esimo festival di Sandremo. Il direttore artistico e conduttore quest'anno sarà Giorgio Panariello, che è collegato con noi da Sandremo stasera insieme con Ilari Blasi, che sarà con Vittoria Cabello al suo fianco. Allora stasera rivedremo la storia del festival con tanti dei protagonisti che ci hanno tenuto compagnia per decenni e soprattutto cercheremo di estorcere a Giorgio Panariello le straordinarie novità di questo nuovo appuntamento. Porta, 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 più tardi.